Ciao a tutti, oggi anguille in umido o detta la veneta, bisato in tecia. Rosoliamo su una pentola cipolla trita, aglio all'oro su olio evo. Laviamo per bene l'anguilla, tagliata a tocchi, facciamo cuocere nel soffritto una latta di passato di pomodoro, aggiungiamo vino bianco secco, sale fino e portiamo a bollore. Aggiungiamo l'anguilla e facciamo cuocere a fuoco basso per mezz'oretta. Passato il tempo, macinate il pepe fresco e impiattiamo. Sì o no, massa bon! Beh, a sto punto se vi è piaciuto il video, mettete un like, ciao!